Il gluteo, un muscolo importante sia dal punto di vista posturale che sia dal punto di vista estetico. Vediamo come possiamo fare per renderlo più tonico in poche mosse. Il primo esercizio che andiamo a vedere è un fondo indietro, mani in appoggio su una superficie stabile, andiamo a effettuare un passo indietro, una ceduta, tenendo il peso sempre sulla gamba davanti. In questo modo andiamo a piegare la gamba, andiamo ad adottare un angolo di 90 gradi fra la coscia e il ginocchio e poi spingiamo sempre con la gamba che rimane ferma. Quindi in questo caso il lavoro principale lo fa la gamba che rimane in avanti. La gamba dietro ha solo una funzione di equilibrio. Appoggio il carico al 90% sulla gamba sinistra e ritorno su. Ok, ci mettiamo a terra per il secondo esercizio. In posizione supina, braccia lungo i fianchi, testa e spalle rilassate. Andiamo a effettuare una flessione della gamba portando i piedi in appoggio a terra alla distanziata larghezza dei fianchi. Da questa posizione andiamo a sollevare lentamente i glutei mantenendo la posizione qualche secondo. Scendo giù lentamente nella fase di discesa inspiro, nella fase di salita espiro. Mantengo la contrazione 2-3 secondi e ritorno lentamente a terra. Ok, pancia a terra e cambiamo posizione. Ci mettiamo per il terzo esercizio proni, con le mani sotto la fronte per una posizione più comoda per la testa. Andiamo a lavorare con una piccola pallina che può essere sostituita comodamente da un cuscino a casa. Appoggiamo la pallina fra le due caviglie. Da questa posizione andiamo a stringere con i piedi contro la pallina e contemporaneamente a sollevare le gambe tese. Solleviamo le ginocchia dal pavimento, buttiamo fuori l'aria e ritorniamo giù. Solleviamo piedi e ginocchia da terra. Piedi e ginocchia da terra. Manteniamo 2-3 secondi la posizione e ritorniamo giù. In questo momento stiamo lavorando bene con tutta la fascia posteriore della coscia, sia con gli aduttori che con i glutei. Un movimento minimo come ampiezza ma massimo come lavoro e risultato. Ripetiamo ogni singolo esercizio una ventina di volte e avremo i nostri risultati. Grazie a tutti.